Edizione speciale del nostro notiziario, edizione speciale serale per tenervi informati giustamente sull'evoluzione della pratica che ci riguarda direttamente, cioè il già annunciato spegnimento delle nostre trasmissioni. In studio, quest'oggi direi ci siamo proprio tutti, al mio fianco partiamo con Cavalleria da Laura Rigamonti che ci rendi conterà su quelle che sono le reazioni dei nostri ascoltatori. Stanno piovendo a centinaia veramente i commenti, le testimonianze, quelli che sono messaggi anche solidali nei nostri confronti e Laura li sintetizzerà nel corso di questo notiziario. Poi con noi naturalmente c'è il responsabile Daniele Ghiglioni e anche Pierfranco Negri che da sempre ci aiuta e ci segue con i suoi servizi speciali dal territorio. E allora io inizierei innanzitutto da Daniele, vediamo di chiarire quelle che sono le novità dell'ultima ora. La novità dell'ultima ora è che lo spegnimento degli impianti di Televalassina è previsto per martedì mattina 18 dicembre alle ore 10. Il Ministero in fretta e furia sabato mattina ha inviato un'email spiegando data e orario per singolo impianto di spegnimento delle varie emittenti che non si sono classificate in graduatoria utile in questo bando frequenze. Lo spegnimento avverrà immediatamente alle ore 10. Tanti ci hanno chiesto di rimanere aperti, di fregarcene di questa sentenza. Noi spegniamo perché noi contiamo di ritornare. Lasciare aperti gli impianti, lasciarli in funzione può comportare il rischio, anzi comporterà sicuramente il rischio di denunce da parte di chi prenderà in mano la nostra frequenza. E il sequestro degli impianti, perché il Ministero aspetta solo quello, sequestrare gli impianti alle televisioni locali. Quindi noi, come c'è stato ordinato, spegneremo gli impianti. Tra l'altro c'è una notizia importante di questo pomeriggio. L'On. Antonio Rusconi di Lecco ha informato che nel corso della discussione di domani in Parlamento per quanto riguarda l'approvazione della legge di stabilità presenterà un emendamento assieme ad altri parlamentari. Il senatore Rusconi ci ha contattato nella giornata di ieri, abbiamo avuto un colloquio nella mattinata di oggi, ci ha contattato direttamente lui, noi non lo abbiamo cercato. Ha preso a cuore la situazione, ha capito la gravità e l'assurdità di questa situazione, perché è una situazione tale che ha voluto far fuori decine, anzi un centinaio di imprese televisive locali minori. Presenterà questo emendamento domani mattina durante la discussione sulla legge di stabilità, non so quali esiti possa avere, però l'importante è che se ne parli, perché da nessuna parte si parla di questa questione. Ci ha contattato anche personalmente e domani vorrà approfondire la situazione in regione Lombardia, il capogruppo del Partito Democratico, il comasco Luca Gaffuri. Altri al momento non si sono fatti vivi, ma nemmeno amministratori locali o altri consiglieri o parlamentari non abbiamo sentito parlare di nulla. Solo tantissima gente che ci esprime disappunto e solidarietà. Ecco, poi avremo occasione di parlare ancora del difficile a questo punto rapporto nostro con i politici e gli amministratori del territorio. Nel frattempo darei la parola a Laura, perché come detto inizialmente ci leggerà alcuni dei messaggi che sono giunti in redazione in questi giorni. Prego Laura. Sì, inizierei da una notizia paradossale, proprio oggi c'è arrivata in redazione all'indirizzo mail di Televalassina, una mail che dice E prima di continuare con i messaggi che ci arrivano in redazione sulle pagine web e Facebook, vi facciamo vedere una bella immagine di un comasco doc. Ecco, Rado Passera che cerca di arrivare a fine mese con il suo misero stipendio anno di 3 milioni e 300 mila euro. Tolti questi piccoli e insignificanti appunti, ecco cosa il ministro Passera ha detto e pubblicato sul sito del ministero proprio lo stesso giorno che ha decretato la morte di un centinaio di piccole televisioni locali. Oggi l'Italia è più amica delle imprese. Questa presa per i fondelli forse se la poteva anche evitare. Ma continuiamo con le testimonianze dei telespettatori. Renato DPR ci legge Questo Stato rappresenta il peggio del peggio del peggio. E poi dovremmo andare a votare per quegli o minichi di dubbia lega, ma per piacere. Per le tv nazionali praticamente mi limito al televideo e qualche sport minore. Quando in famiglia ogni tanto passano su striscia sento di inviati chiamati per ogni genere di protesta. Ora cerco il sito e se è possibile trovare l'indirizzo inizio a protestare lì. Chissà se facendolo in molti qualcosa succederà. E' l'ora in riga. Ci scrive poi Giuliano Agostini Io non vi conosco ma ricordate che in Italia chi ci rimette sono sempre quelli che osservano la legge alla lettera. Vedi l'abolizione delle province o l'accorpamento dei comuni. Pertanto restate accesi e aspettate che qualcuno venga a spegnervi. Brianza.com di Servizi Multimediali conferma è semplicissimamente Italia. Giordana Ianez Bonacina ritorna sull'argomento Sto quasi male. Ho tanti miei spettacoli ripresi da Televalassina. Il mio papà che ha quasi 83 anni passa la giornata immerso nei ricordi guardando TVS. Come glielo dico adesso? E Giancarlo Porro che ci scrive Chissà come mai non hanno mai dato a Televalassina la possibilità di arrivare a Como. Forse per un conflitto di interessi? E ancora Simone Sartor Non bisogna stupirsi di nulla. Semplicemente si chiama Italia. Ok, poi torneremo ancora sui messaggi. Ecco, Pierfranco, tu ne hai viste di tutti i colori. La cosa che salta all'occhio, quel messaggio, il terzo ultimo che Laura ha letto, questa persona, questo nostro ascoltatore di 83 anni che praticamente è videodipendente unicamente per Televalassina. Beh, prima di tutto una solidarietà a questo spettatore. Poi questo spettatore, visto l'età, mi fa venire e mettere un'osservazione. Se vogliamo sarà magari un po' cattivo. Anni addietro le direttive della stampa, l'agenzia Stefani le dava con le veline, cioè quelle coppie fatte con la carta carbone. Oggi le direttive della stampa di chiusura di Bavagli si danno in un altro modo, via fax. Non so al momento come commentare questo, ma sicuramente non è un atto bello, non è un atto per una società che si definisce democratica. Non è nemmeno, secondo me, costituzionale, ma nemmeno di buon gusto. Rimaniamo semplicemente a questo, non è come minimo di buon gusto. Non voglio aggiungere al momento altre parole, perché io, Televalassina, praticamente l'ho quasi vista nascere. I primi servizi, se ricordo bene, risalgono all'81, 82, 83, quegli anni lì. Per cui è una cosa che ti fa male dentro. Ci posso credere. Ecco, Daniele, parlavamo prima del comportamento dei politici e degli amministratori del nostro territorio. Chi li ha sentiti? Oggi, sul quotidiano La Provincia, che ringraziamo perché fino adesso, fino ad ora, ne ha parlato tantissimo diffusamente e ne avrebbe parlato anche nei tempi addietro se avessimo forse anche noi fatto capire meglio qual era la gravità di questa situazione. L'onorevole rivolta, in un'intervista rilasciata a Luca Meneghel, che deve respingere le nostre accuse che le abbiamo fatto l'altro giorno, se si possono chiamare accuse, e dice Personalmente non mi sono mai occupata di tv locali e Televalassina non mi hai mai chiamata per chiedere aiuto. Noi non chiediamo aiuto a nessun politico. Noi non dobbiamo chiedere aiuto. Deve essere il politico che deve capire quali sono i problemi del territorio. Noi non vogliamo legarci a nessun politico. L'onorevole Rusconi, senatore Rusconi, ci ha contattato lui personalmente e noi non abbiamo fatto altro che spiegare la situazione. Il consigliere regionale Luca Gaffuri ci ha chiamato personalmente e gli abbiamo spiegato la situazione. Noi non chiediamo aiuto politico a nessuno. Semmai i politici ci stanno facendo chiudere. E poi continua perché mi dispiace molto per questa situazione, anche perché ho sempre fatto il possibile per salvaguardare l'informazione locale. Mi sono occupata dei giornalisti quando si è trattato di approvare l'ecocompenso, certo, e lo rivendico. Allo stesso modo stiamo lavorando per il fondo di sostegno all'editoria. Quanto al bando di assenuazione delle frequenze, non è stato il mio partito, la Lega Nord, a stabilire le regole. E certo un politico non può interferire a bando aperto per favorire una televisione piuttosto che un'altra. Noi non abbiamo chiesto di essere favoriti o di modificare il bando. Questo bando, che reputiamo una porcata, è nato già nel 2010, quando c'è stata assegnata la frequenza digitale. Nel 2010 hanno assegnato a tutte le televisioni i canali digitali peggiori possibili in tutto lo spettro radioelettrico. I canali dal 61 al 69, che sono stati poi venduti nel 2011, sono stati assegnati stranamente tutti alle televisioni locali. Non c'è stata una televisione nazionale che ha preso un canale in quella banda. Perché? Perché c'era già un piano politico e all'epoca era il governo Berlusconi appoggiato dalla Lega. E questa situazione va avanti da due anni. Il governo Monti, per quello che si può dire, per quello che sta facendo, per i pessimi errori e il modo in cui si sta comportando, non sta facendo altro che attuare la strada già spianata nel 2010. Noi abbiamo perso le frequenze 61-69. Il digitale, quando è entrato in funzione nel 2009 in Italia, prevedeva un riparto semplicissimo delle frequenze. Due terzi alle nazionali, un terzo alle televisioni locali. L'esproprio dei canali 61-69, se logica funziona, avrebbe dovuto prelevare tre canali alle nazionali e sei canali alle locali. Questo non è avvenuto. Tutti i nuovi canali sono stati prelevati alle locali. In più, adesso in Lombardia, ci si mette la situazione di questo famoso canale 35, assegnato alle televisioni locali, la famosa diciottesima frequenza, che è stato assegnato a Europa 7. Europa 7 è 15 anni che è in causa con Mediaset. Europa 7 ha tutto il diritto di trasmettere. Ha ricevuto, tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, la concessione per trasmettere. Rete 4 non ebbe la concessione. Se vi ricordate, c'è quel famoso discorso che girava negli anni 90, di Rete 4 che doveva finire sul satellite, perché non aveva ricevuto la concessione e le sue frequenze dovevano essere utilizzate da Europa 7. Bene, Europa 7 si è esposta, si è appellata a tutte le sedi competenti, ha ricevuto giustizia e lo Stato doveva assegnare una frequenza, ma doveva assegnare una frequenza nazionale, non una frequenza locale. Berlusconi e Mediaset hanno le loro belle frequenze immacolate, da tre analogiche sono diventate sei, non gliene hanno portato via nemmeno una e le locali devono chiudere. Laura, altre reazioni? Sì, vorrei leggere le email che ci sono arrivate dalle associazioni locali che in questi anni abbiamo cercato di far parlare attraverso i nostri servizi e le nostre notizie. Il coordinamento del Cornizzolo ci scrive apprendiamo con sgomento e incredulità che per ragioni poco chiare la vostra televisione e le vostre frequenze sono state cancellate da un decreto ministeriale. Vogliamo inviarvi tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro disappunto per la soppressione senza alcuna ragione di una televisione che ha sempre dato voce alla gente, ai problemi, alle istanze e alle proposte del nostro territorio. Senza indugiare in facili operazioni di televendita o di altre facili e poco serie trasmissioni. Siamo davvero profondamente turbati di queste strane operazioni di riorganizzazione delle frequenze. Nella speranza di una soluzione positiva di questa strana vicenda vi confermiamo tutta la nostra solidarietà e disponibilità. Sentite le ultime novità dell'emittente Televalassina di Asso sulla ventilata chiusura e esprimiamo vicinanza auspicando che il ricorso al TAR abbia esito favorevole in modo da non privare i nostri soci di quanto TVS ci dedica. La mail è fermata dalla sezione di Asso del CAI. Il circolambiente Ilaria Alpi esprime solidarietà e sostegno per l'assurda vicenda che vedrà la chiusura delle frequenze televisive. Auspicchiamo un ravvedimento del Ministero in modo che venga ridata voce alle emittenti locali. Rieccoci in studio. È ancora Pierfranco, a questo punto nel ruolo di decano di Televalassina. Da parte tua un ricordo di quelli che sono stati questi 30 anni di lavoro davanti alle telecamere. Magari qualche episodio curioso, qualcosa che possa riportare un clima positivo all'interno dello studio perché sinceramente con la ricostruzione di Daniele ci siamo un po' tutti scaldati. Più che giusto che ci siamo scaldati. Ricordi, ricordi ce ne sarebbero tanti. Ci vorrebbe altro che un notiziario. Ricordiamo che Televalassina non è stato solo un momento importante per me perché mi ha permesso di conoscere tante realtà, tante persone, tante cose. Ma è stato anche un momento importante per il territorio che ha potuto portare esperienze. Ma anche lo scuola di Televalassina è andato spesso anche lontano. Mi viene in mente i filmati che abbiamo fatto su Onna, per esempio, per stare nel recente. Ma se andiamo dietro nel passato, le vicende dell'ATR, tante cose. Cioè, momenti anche belli, i presepi, le feste, le tradizioni, le tradizioni, i voci proprio, come dire, anche a volte interviste parlate in dialetto. Cioè, cosa che quando spegni la televisione, è come televisione come questa, è come Televalassina, ci sono tante. È come bruciare una biblioteca, è come spegnere una parte della cultura del territorio. Insomma, è un atto che io riferisco vandalico. Sì, ma adesso comunque avrete un panorama di vasta scelta. Perché davanti a noi si sono classificate televisioni che durante il giorno fanno solo maghi, tappeti, pentole, cartomanti e chatline di notte. Io lo ripeto ancora, le stesse televisioni che sono davanti a noi, ingiustamente, ce ne sono due casi esemplari. Alle undici e mezza vedevo donne nude che ballavano, dicendo calde ragazzi milanesi, vi aspettano. Questo è il livello delle televisioni che vengono premiate. Perché tutto è stato deciso in un ufficio a Roma. La competenza dei funzionari, lasciamo perdere questo discorso, vedremo adesso, noi abbiamo intenzione di approfondire anche alcune questioni. Perché a noi è stato negato due volte con dei fax espliciti firmati dai funzionari ministeriali. Non è stato possibile mandare il nostro segnale a Como Città. Ce l'hanno impedito in tutti i modi. Perché la scusa era il vostro segnale può arrivare in Svizzera. Potrebbe disturbare Milano, potrebbe disturbare Bergamo. Delle scuse assurde. Ora la nostra frequenza è stata assegnata a una televisione semi-regionale. dal masterplan, cioè l'elenco degli impianti con le transizioni e accensioni previste per martedì 18, questa televisione aprirà tutti i canali che attualmente esercice su una frequenza diversa dalla nostra, sulla nostra frequenza a Como, a Brunate, a Campione, a San Fedele di Intervi. Tutti impianti che sconfinano in Svizzera. Io mi chiedo se questa cosa è una cosa possibile. O se qualcuno ha fatto di tutto perché noi a Como Città non potessimo mai arrivare. Se qualcuno ci ha messo lo zampino non lo so. Io voglio capire come funzionano le cose. Noi siamo stati sempre danneggiati da quando siamo nati. Laura ci sono altri messaggi immagino. Sì, la famiglia Zappa Renzo di Valbrona, sentite le ultime notizie in merito alla chiusura della rete, auspica che gli organi preposti si ricredano e diano all'emittenza di Televalassina la possibilità di trasmettere notizie, documentari e quant'altro necessita per l'informazione, la cultura e il divertimento dei nostri familiari. Esprimo la più sentita solidarietà a Televalassina contro un'ingiuzione di chiusura che dimostra ancora una volta il fallimento della classe politica italiana. Anziché salvaguardare realtà locali che propongono eventi e approfondimenti territoriali, si tutelano interessi lobbistici e di basso contenuto morale ed educativo. Un consiglio alle grandi emittenti, meno frivolezze e più qualità. È ora di far uscire i nomi e le azioni pro o contro dei politici locali. Forza, coraggio e auguri da Franco Bramani. E Gian Mario ci scrive Mi raccomando, tenete duro, questa è una battaglia o forse una guerra che deve essere assolutamente vinta da TVS e da tutti coloro che ne sono sostenitori, me compreso. Un grazie di cuore per tutto quello che avete fatto fino ad oggi e che sicuramente farete dopo che avrete riaperto. Personalmente sono con voi. Alberto ci scrive Molto dispiacere da parte mia, i vostri programmi sono una compagnia per tutti ma soprattutto per gli anziani del nostro territorio che con il canale Storia rivedono i loro tempi scomparsi. L'innata passione per il modellismo che avete diffuso sul territorio con TVS Ban avete fatto dimenticare a volte le sofferenze dei malati e della vita quotidiana regalandoci durante il giorno programmi che non potremo mai vedere altrove. La voce del nostro territorio è stata zittita Bisogna protestare anche direttamente a casa di ogni politico generalmente dovrebbe chiudere chi fallisce non chi lavora e funziona. Ricordiamo che questi sono messaggi che ci stanno giungendo tramite Facebook tramite post elettronica il nostro sito www.televalassina.it quindi ci potete seguire anche indirettamente non soltanto dalle frequenze televisive e lo potrete continuare a fare naturalmente nelle prossime settimane il sito rimarrà continuamente aggiornato per poter sapere in tempo reale quelle che saranno naturalmente le nostre mosse e ulteriori sviluppi. Voci strane girano in questi giorni in merito a quelle che possono essere stati coinvolgimenti dal punto di vista finanziario di Televalassina. Sì c'è qualcuno o più di uno che sta spargendo una voce cattiva che fa male però evidentemente c'è gente che non ha proprio nulla da fare oppure viaggia per partito preso noi avremmo in questi anni saremmo stati zitti non avremmo mai detto nulla di questa situazione perché noi politici noi venivamo pagati dai politici noi prendevamo i soldi dai politici dai partiti noi non abbiamo preso mai un soldo da nessuno non abbiamo mai preso nessuna lira da partiti politici quei pochi soldi presi eventualmente da un ente locale che potrebbe essere la comunità montana piuttosto che un comune era solo su commissione di eventuali filmati per esempio la festa del cavallo di Asso la festa caprina la festa della montagna l'ente chiedeva a Televalassina di realizzare un filmato un reportage dell'intera manifestazione e questo per noi era un lavoro come è un lavoro normale di un centro di studi di produzione video poi fondi per l'editoria ci sono un sacco di televisioni che si portano a casa veramente tantissimi soldi e che vivono con i fondi per l'editoria Televalassina non è mai riuscita in questi anni a prendere fondi per l'editoria tranne che negli ultimi due anni perché c'è sempre stato qualche problema qualche piccolo cavillo che faceva saltare i fondi per le piccole imprese ma i fondi per Televalassina come per tutte le altre piccole imprese sono briciole sono veramente quattro soldi che arrivano perché la grossa fetta se la spartiscono le grandi regionali quindi Televalassina su cosa sta in piedi? sta in piedi con la pubblicità normale e nemmeno le televendite perché non ne facciamo di televendite la pubblicità e con i nostri sponsor che ci teniamo già da adesso a ringraziare noi abbiamo tanti sponsor fedeli che ci seguono da anni qualcuno addirittura da quando abbiamo aperto e spero che continueranno a seguirci anche quando riapriremo perché noi riapriremo tra pochi giorni tra un mese 40 giorni ma noi riapriremo non gliela daremo vinta a questo sistema nelle pagine dei ricordi Pierfranco è giusto anche ricordare quelli che in questi anni ci hanno lasciato ma che hanno soprattutto lasciato un segno importante a Televalassina beh bisogna ricordarsi di Beppe Gentile e di Carlo Rescari che non sono più fra di noi però come dire la loro esperienza la loro capacità di essere proprio immersi nella realtà del territorio essere vicini alla gente è sempre è sempre un stato come dire un insegnamento che tuttora è vivo in noi e che porteremo avanti quando si riaprirà a loro soprattutto a loro che non ci sono più va il nostro grazie per averci insegnato che fare televisione è un servizio e oggi qualcuno toglie questa possibilità cioè un servizio Daniele penso che vorrei ricordare anche tu queste persone magari anche altri collaboratori come dire che sono passate in questi studi ma io io mi ricordo quando ero piccolo che non so avevo nell'ottanta nell'ottantadue avevo 4-5 anni per cui mi ricordo che c'era sempre mio papà che montava i filmati trasmetteva trasmettavamo solo alla sera il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 22 con un ripetitore ad asso che si arriva da prima a poche case poi è nato il primo impianto abbiamo cominciato a coprire Asso Rezzago Caglio Sormano Canso poi è cominciato a prendere piede ma tutto è nato per gioco per passione si vedeva la passione e qui a Televalassina la passione c'è ancora perché noi stiamo andando avanti anche per la passione se dovessimo fare un discorso economico eravamo già fermi da anni poi nel 1991 con la legge Mammi tante realtà come le nostre perché ce ne erano veramente tante io mi ricordo il Don Donato vicino di Valbrona aveva aperto Televalbrona c'era una televisione a erba Como aveva tre o quattro televisioni era veramente una era veramente una una zona ricca di pionieri dell'informazione locale c'era veramente tantissima tantissima voglia di fare televisione e di fare informazione nel 91 sono sparite tutte siamo rimasti solo noi ci siamo adeguati ci hanno messo i bastoni fra le ruote vi ricordo che nel 94 il ministero ci ha fatto chiudere noi abbiamo chiuso per un anno e mezzo ingiustamente nel 94 perché criteri assurdi avevano paragonato una televisione come la nostra un po' come quello che succede adesso una televisione come la nostra come una grande regionale o nazionale quindi i requisiti per poter andare avanti erano erano enormi capitale sociale dipendenti nel 94 c'è già stata la prima scrematura di televisioni locali nessuno se lo ricorda hanno chiuso decine centinaia di televisioni o piccole emittenti che servivano magari solo il piccolo paese noi siamo andati avanti a fatica siamo arrivati nel 2010 con segnali fortemente disturbati avevamo grossi problemi di interferenze in molte zone non abbiamo mai potuto ampliare perché c'è sempre stato negato ogni qualsiasi possibilità di ampliamento siamo arrivati nel 2010 la nostra battaglia l'abbiamo vinta abbiamo cercato di migliorare i segnali di ampliare la nostra zona arrivando alla periferia della Valtellina con Morbenio l'ecco città Calozio Corte Val Madrera poi l'intenzione era quella di arrivare in Val Sassina come città come detto c'è stata negata e adesso tutto finisce così investimenti ingenti noi parliamo quasi più di 500 mila euro di investimenti il ministero ci ha chiesto di passare nel digitale con requisiti pesanti noi abbiamo dovuto cambiare completamente tutto è come dire io prendo la mia azienda e se voglio andare avanti domani devi cambiare tutto noi abbiamo dovuto cambiare tutto tutti gli impianti trasmissivi sono stati cambiati completamente da zero requisito per andare per continuare a trasmettere nel digitale che poi notiamo che pochissimi rispettano noi evidentemente siamo stati poco furbi aprire sei canali sei canali gestire sei canali aprire sei canali ha un costo enorme se già gestire un canale è un'impresa veramente complicata pensate a gestirne sei quindi impianti sei canali sei canali tre nuove tre nuove aree di copertura ampliate investimenti che non finiscono più e adesso il ministero ti dice chiudi e trascorri un buon Natale poi magari ne parliamo non so se è giusta una cosa del genere però evidentemente funziona così ne riparliamo perché giustamente prima Pierfranco diceva quando riapriremo ecco mi piace il tuo ottimismo e penso che sia condiviso da tutti quanti noi in studio la parola ancora a Laura ci avviamo conclusione gli ultimi messaggi poi eventualmente una tua riflessione sì come dicevi anche su Facebook stanno piovendo i messaggi di solidarietà e protesta ne leggo ancora a qualcuno Romina Camerin perché non inscenate un funerale in segno di protesta o non serve a niente protestare Roberto Biscaro lo Stato oltre a non creare lavoro distrugge anche quel poco che c'è Sergio Vicini ormai questo Stato non fa altro che distruggere tutto quanto di bello e di buono c'è specialmente se funziona con le proprie gambe Giovanni Galimberti TVS Televalassina è un patrimonio del nostro territorio una televisione adatta a tutti che trasmette valori positivi non imbrogli quali televenite cartomanzia e peggio Fabio Sartori un caloroso ringraziamento ai vari professoroni e scagnozzi che a fine anno ci chiederanno anche i soldi del canone e George McLean rimpiango l'analogico odio le pay tv già un canone basta ed avanza le tv libere di qualità dovrebbero avere il diritto di esistere e non di venire chiuse perché a qualche genialoide viene in mente di fare classifiche idiote e non mi vengano a dire che mancano le frequenze sono nero in ogni caso ringrazio TVS per tutto quello che ha fatto in questi anni avete tutta la mia gratitudine e tutta la mia solidarietà per quello che può servire e quindi io mi aggiungo a tutti questi messaggi chiaramente è difficile dire qualcosa da qualche giorno abbiamo appreso la notizia ma la verità è che non ci sono parole mi piace pensare che sarà una vacanza che Televalassina si prende questo periodo di vacanza natalizia e che quindi potremo tornare tra un mese o poco più anch'io sono qui da ormai tanti anni ero una ragazzina e come diceva prima Gippo è stata una passione più che un lavoro quindi spero di tornare per continuare con questa mia passione noi tra l'altro un aneddoto la Laura l'abbiamo intervistata una delle prime volte quando era ancora all'istituto Romagnosi e faceva l'interprete e lì avevamo capito ha detto questa ragazza può venire può venire fa per noi e così è stato appena ha terminato gli studi a Romagnosi è arrivata da noi e ormai sono più di dieci anni penso vediamo di fare le ricerche d'archivio di trovare il servizio con Laura giovane studentessa delle magistrali di erba allora facciamo un'ultima pausa e poi le conclusioni rieccoci in studio adesso è venuto il momento di sentire anche un altro nostro prezioso collaboratore è Aloisio Bonfanti che quest'oggi ci è venuto a trovare negli studi e ha appunto rilasciato questa dichiarazione cari telespettatori di TVS non posso che esprimere amarezza tristezza e anche indignazione di fronte al provvedimento reso noto in questi ultimi giorni circa la chiusura degli impianti di Televalassina che interrompono bruscamente un cammino di storia di impegno di lavoro iniziato ormai tre decenni or sono e nel corso del quale l'emittente ha allargato il suo spazio il suo raggio d'azione e di informazione oltre la Valle dell'Ambro oltre il Triangolo Lariano toccando vaste zone delle province di Come di Lecco e la stessa Brianza in direzione di Monza quindi Brianza Lecchese Brianza Lariana Brianza Comasca un provvedimento che cala dall'alto e che non tiene conto appunto di una tradizione di una laboriosità di un impegno quotidiano che ha visto alla ribalta uno staff di tecnici che sono andati oltre il ruolo di occupazione normale ma hanno trasformato hanno trasportato nel lavoro stesso un impegno di passione di volontà nel comunicare nell'estare in mezzo alla gente l'aspetto migliore infatti di questa emittente che Emilio Magni ha scritto recentemente sarebbe anche piaciuta a Gianni Brera il grande giornalista del quale ricorderemo il prossimo 19 dicembre i 20 anni della sua improvvisa scomparsa avvenuta in un incidente stradale stavo dicendo questa tv sarebbe proprio piaciuta a Gianni Brera per il suo stare continuo in mezzo alle gente alle feste alle tradizioni ai raduni alle sagre camminare sulle orme della storia di coloro che ci hanno preceduto seguire le antiche memorie gli antichi personaggi vicende dimenticate e rievocate che possono essere traccia ed impegno di vita civica e morale nei prossimi anni nel prossimo futuro in un tempo dove bisogna rigenerare complessivamente una nazione caduta in una crisi economica ma sicuramente anche politica e morale è un attacco alla libertà di stampo a chiudere una tv con altre tv minore sicuramente è un'azione che ostacola libera informazione che non crede nei valori di libertà e di democrazia e di pluralismo politico per questo che è grave questo provvedimento calato dall'alto questi provvedimenti che giungono da sedi lontane non tenendo conto di una realtà territoriale locale così vivace così presente così diffusa e così laboriosa io ho vissuto gli ultimi cinque anni di Televalassina in quanto la mia collaborazione risale all'autunno 2007 ma mi hanno ricordato proprio in questi giorni che c'è già un precedente analogo alle giornate tristi che stiamo vivendo in questo mese di dicembre l'emittente venne chiusa già nel 1994 vinse il ricorso vinse la sua battaglia di libertà e di legalità ed è tornata a trasmettere aumentando sempre più il raggio di azione che nel corso di questo 2012 che volge a conclusione ha portato anche ad un'irtenza sostenuta nella zona di Lecco e del territorio lariano vicino il mio augurio il mio auspicio che si proietta nel futuro dopo questa triste e forzata parentesi è quello che Televalassina ritorni presto al più presto nelle vostre case nelle vostre famiglie nelle sagre e nelle feste negli avvenimenti di ogni giorno con un'informazione libera sana onesta e trasparente è questo il patrimonio migliore il bagaglio più prezioso che proveniendo dal passato si proietta nel futuro per una ripresa ancora più libera e gioiosa per una emittente che incontri i consensi popolari perché questo congedo parziale e provvisorio avviene in un momento di forte espansione della tv stessa nelle notizie nelle trasmissioni nei sei canali esistenti e in tutto quello che voi avete potuto seguire in questi ultimi anni quindi un augurio a Televalassina che torni presto in mezzo a noi a tutti noi chiudiamo con i ricordi soprattutto ricordando ancora quelli che sono stati i nostri collaboratori nel corso dei decenni Elisabetta Molteni la vedete in video tutti i giorni quindi ringraziamo anche lei tornerà appena riapriremo Daniela Tanzi la nostra collaboratrice di Como che si sta battendo in tutti i modi per far sì che Televalassina ritorni ricordiamo Oriana Boselli Orena Boselli ha incominciato la sua carriera da giornalista proprio con Televalassina poi ha intrapreso un lungo percorso che l'ha portata da prima a You Reporter e adesso ha portato al Corriere della Sera Oscar Malugani la parte sportiva di Televalassina Giuseppe Guin ora è un lavoro quotidiano nella provincia di Como ma ha collaborato tantissimi anni con le sue trasmissioni Zoom e Grandangolo gli approfondimenti che hanno sempre riscosso un grande successo Emilio Magni che ha parlato proprio di Televalassina l'altro giorno nei notiziari il collega di Lecco Gianni Riva il collega della Svizzera Italiana della televisione Svizzera Italiana Mario Realini che ha collaborato con noi in tutti i modi possibili per quanto riguarda i nostri servizi nel territorio elvetico Giuseppe Rondinelli che si è augurato con un messaggio personale pochi giorni fa di ritornare a lavorare per Televalassina e si auspica il nostro ingresso a Como perché vuole Televalassina vuole lavorare in un momento a Televalassina evidentemente è stato un bel periodo Walter Gatti con cui non sono mai finiti i rapporti di collaborazione dall'88 con il tabellone il casellone tutti questi giochi giochi a quiz ancora lo vediamo a presentare serate o feste in piazza la nostra prima direttrice Maria Orsola Castelnuovo la prima direttrice della testata giornalistica di Televalassina e poi la direttrice che ti ha anticipato Anna Fiume che non lavora più con noi da qualche anno ma che è sempre in è sempre in contatto e di cui conserviamo un buon ricordo poi sono tante le persone che hanno collaborato con Televalassina e che collaboreranno ancora chi ha le telecamere mi ricordo Matteo Pontigia Luciano Mazza mi ricordo mi ricordo Roberto Paredi mi ricordo tantissime persone che venivano a lavorare in televisione Televalassina anche per la passione si era creato un un clima di passione di entusiasmo che qui c'è ancora non esiste il discorso lucro televisione solo per fare soldi qui si lavora ancora per passione noi lavoriamo ancora per passione io lavoro ancora per passione e poi naturalmente il ringraziamento a parte di tutti noi a Maurizio che in questo momento è dietro alla telecamera è rimasto solo lui in regia non abbiamo nessun altro Maurizio dal quale naturalmente è nato tutto questo 30 anni fa in compagnia dell'amico Pierfranco continuate a seguirci questa era una puntata particolare speciale festiva uno dei pochi notiziari che sono andati in onda a Televalassina nei giorni festivi ma sicuramente era dovuta ci saranno ancora scampoli di informazione probabilmente nella giornata di domani lunedì perché lo spegnimento come abbiamo detto avverrà ufficialmente martedì mattina alle ore 10 quindi noi lunedì domani lunedì 17 dicembre saremo ancora qui alle 20 e 15 con l'edizione serale del notiziario ricordiamo che noi non chiudiamo effettivamente Baracca e Burattini noi siamo disponibili ad ascoltare tutte le vostre telefonate di solidarietà di protesta vi invitiamo a iscrivervi alla nostra pagina facebook basta andare in facebook e digitare Televalassina e verrete continuamente aggiornati abbiamo un sito internet www.televallassina.it abbiamo il canale youtube che è youtube.com slash Televalassina abbiamo la nostra mail redazione chiocciola televallassina.it potete vedere le sovraimpressioni ci sono tantissimi modi c'è il nostro telefono 031 68 33 69 noi siamo in contatto e rimarremo in contatto con tutti voi noi spegniamo solo gli impianti perché ci è stato imposto di spegnere gli impianti in questi giorni lavoriamo lavoreremo più di prima lavoriamo per ritornare quindi stateci vicino dateci forza per poter tornare più forti di prima e superare le ingiustizie che ci piovono addosso doveroso l'ultimo saluto di Pierfranco ecco prima di tutto un ringraziamento a chi ci ha seguito a chi ci è solidale con noi e volevo chiudere con un momento così ora tocca a Televalassina essere solidali con le altre emittenti che si trovano nello stesso nello stesso guado forza ragazzi vediamo di uscire grazie